il Napoli non vince dal 13 aprile del 1986 e dobbiamo dire che sotto la gestione da quando il Napoli di Aurelio De Santis non ha mai battuto il Milan al San Siro per quanto riguarda i risultati ci sono state tre sconfitte e due pareggi da quando il Napoli di Aurelio De Santis, di Aurelio De Santis, di Aurelio De Santis, di Aurelio De Santis